Parliamo di protezione civile perché dopo lo scandalo delle fatture pagate due volte che ha portato al resto di un funzionario e di tre imprenditori, oggi interviene il direttore regionale Carlo Tanzi che dice che è soltanto l'inizio, bisogna riportare la protezione civile alle origini e annuncia un terremoto. Sentiamo. Il procuratore Gratteri e il pool specializzato nella pubblica amministrazione di cui fa parte la Guardia di Finanza, lo ha detto chiaro in conferenza stampa a Catanzaro nei giorni scorsi che lo scandalo delle fatture pagate due volte dalla regione per lo spegnimento degli incendi è stato scoperto grazie al nuovo corso della protezione civile regionale che si resa conto delle incongruenze nei conti, scegliendo di non restare in silenzio e non coprire le malefatte. Oggi è lo stesso Carlo Tanzi, direttore della protezione civile regionale, a dire che è solo l'inizio. Io ritengo che possiamo prevedere un terremoto, in questo caso quelli diciamo naturali non si vedono, però ci saranno altre cose. Questa è solo forse la scossa iniziale, ce ne saranno tante altre. L'emergenza, come sottolineato dai magistrati, sarebbe stata una fonte di guadagno, un vero e proprio business per un funzionario e tre imprenditori che sono finiti nei guai. Tanzi ai nostri microfoni rivendica il ruolo della protezione civile e il suo intento dichiarato, tornare allo spirito originario. Ritengo che la protezione civile abbia delle nobilissime origini e sono quelle soprattutto supportate dal volontariato, supportate appunto dai vari ordini professionali che lavorano a titolo spesso di volontariato. Quando questo spirito viene tradito allora non va bene, perché se si approfitta dell'emergenza per poter commettere degli atti illeciti, allora viene tradito lo spirito delle nobili origini. Ecco, semplicemente io voglio riportare la protezione civile alle origini. Ecco, semplicemente io voglio riportare la protezione civile alle origini.